Approfondimento dedicato alla chirurgia plastica. Ci troviamo nello studio del dottor Cicogna e oggi vogliamo parlare della mastoplastica additiva. Ci rivolgiamo alle nostre telespettatrici dandovi dei consigli importantissimi. Dottore quali sono le ragioni principalmente che spingono una donna a sottoporsi a questo tipo di intervento? Dico sempre che il seno rimane il simbolo della femminilità quindi una donna giovanissima dove il seno non abbia raggiunto un adeguato sviluppo, i casi di asimetria mammaria abbastanza frequenti in cui una mammella si sviluppa meno dell'altra oppure e ritengo sia la percentuale più frequente le donne pur giovani che però in seguito a gravidanza o allattamento vedono il loro seno spuotato. Quindi al chirurgo chiedono non una misura eccessiva ma chiedono proprio di ritornare alla misura prima della gravidanza. Dottore qual è la prima regola per chi vuole prendere in considerazione l'intervento al seno? Quali sono i primi passi che la donna deve compiere? Innanzitutto deve sapere subito che si tratta di chirurgia bella e buona, di non affrontare la cosa in maniera troppo semplice, deve fare un'adeguata preparazione con gli esami che servono all'intervento, deve essere maggiorenne, questo in seguito ad un disegno di legge di qualche tempo fa e deve informarsi sul tipo di materiale che le verrà impiantato. Ecco parliamo di chirurgia, quindi dell'intervento vero e proprio, che cosa comporta? L'intervento deve essere sempre eseguito nelle condizioni di massima sicurezza per cui personalmente preferisco sempre almeno il ricovero di una notte in clinica dove la paziente può essere tenuta assolutamente sotto ogni controllo. Ecco, quanto dura l'intervento? Un intervento di mastoplastica additiva semplice dura fra un'ora, un'ora e mezza. E i tempi di recupero dopo l'operazione? Si chiede che per 15 giorni la paziente non faccia movimenti eccessivi con le braccia, non sollevi pesi importanti, non esegua attività sportiva. Dopo 15 giorni invece può riprendere in pieno la sua attività sia lavorativa che sportiva. Passato trascorso questo tempo, ovviamente la paziente torna da lei, torna a rivedere, il risultato si vede immediatamente? Diciamo che con le attuali tecniche e con la tecnologia ora esistente addirittura possiamo creare il seno su misura, ovvero nella prima visita che si ha con la paziente si misurano le sue caratteristiche fisiche, la larghezza del torace, la base del seno, la distanza fra lo sterno del capezzolo e possiamo esattamente usare la protesi che la paziente richiede. Per cui il risultato è già prevedibile. Diciamo che l'indomani, al momento della dimissione, la paziente vede già il risultato, anche se quello definitivo può passare circa un mese. Ecco, quindi mi sorge spontanea anche una domanda. Quanto importante è il rapporto medico-paziente? Fondamentale, soprattutto in un tipo di chirurgia che non è necessaria e dove deve esistere fin dal primo istante un certo feeling fra il medico e la paziente. A volte spaventa e blocca la donna magari la paura del dolore. In questo caso come? L'anestesia ha fatto passi da gigante. La durata dei farmaci è esattamente quella che serve per l'intervento. Dopodiché la paziente già nelle ore successive è già direi perfettamente cosciente e in grado di alzarsi e di riprendere a deambulare qualche ora dopo l'intervento. Dottor Cicogna, l'intervento di mastoplastica addittiva è per sempre? Dipende dal tipo di protesi impiegata. Sul mercato esiste un'infinità di prodotti, addirittura anche di produzione estera di cui ci sono stati grossi scandali internazionali. Attualmente però esistono protesi di ottima qualità che la ditta produttrice fornisce di garanzia a vita. Cioè in caso di deterioramento spontaneo la protesi viene sostituita e queste protesi possono essere tranquillamente portate dalla paziente per tanti tanti anni. Ecco quindi sicuramente la prima regola per la paziente non è che può scegliere lei il tipo di protesi è quella di affidarsi? Deve affidarsi ad un professionista qualificato che le consigli per il meglio. È ovvio che la protesi di miglior qualità ha un costo molto superiore di altri. Grazie.